Uno sconto sulla TOSAP del 50% dei commercianti di Piazza Garibaldi, sia quelli fissi che ambulanti, quando il mercato le mercoledì e del sabato si sposta dalla sua location storica per più di tre settimane consecutive. La proposta dell'assessore comunale a commercio Cristella Civita ottiene l'ok della giunta comunale di Palazzo San Francesco che nei giorni scorsi ha approvato la riduzione della tassa di occupazione del solo pubblico per gli esercenti della piazza. Ora l'iter, come di consueto, prevede passaggio prima nell'apposita commissione consigliare e poi in consiglio comunale. Tutto era cominciato la scorsa estate, quando, per circa un mese, Piazza Garibaldi è rimasta chiusa, prima per la giostra quale resca di Sulmona e d'Europa e poi per il festival Montagnin Jets che ha prodato nel cuore del centro storico. Una chiusura che va da metà luglio a metà agosto è suscitato non poche rimostranze da parte dei commercianti che, fatta eccezione per i grandi eventi e qualche weekend, non hanno incassato quando si aspettavano. Da lì la proposta dell'assessore è di venire incontro all'esigenza dell'esercenti e di ridurre, ogni qua volta che per più di 21 giorni si verificherà il trasferimento nel mercato, la tassa sul solo pubblico. La proposta è buona, però ci deve stare più gente, a noi non ci interessa la tassa, la tassa va bene fino a un certo punto. Beh, finalmente un'amministrazione che prende a cuore le problematiche dei commercianti in piazza. Diciamo una piccola goccia nel mare, è una cosa che sto lottando anche da parecchio, chiedendo un abbellimento della piazza ulteriormente. Eurospiro quindi diciamo li aiuta e loro ne sono anche magari più contenti, visto che magari sono anche un po' di periodi brutti. Una proposta che non fu accolta con entusiasmo da tutti i commercianti, ma che comunque garantisce una riduzione dei costi e un minimo di ristoro. Il provvedimento è passato in giunta.